Sì, sì, sì. 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 Sì. Allì in front of the church, everything that is there is free. It's free for free. Food for free. Okay. Bye. 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 no, la fiesta è come al lato basta questa cancioncilla si la oyeron mi gusta, la che trae il cario rollo questa cancioncilla per se qui non mi fregano i carri va a llover oh 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 buona 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 burona buona 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 provata spiega come E' il di Michael? Ah, a las 10 mi amor, per che lo vieno a casa. E' un pollo. E' una toallita. E' venuto per la comida gratis. E' venuto a la polvora? No. E' venuto a la polvora? Pensi che i'vano a la polvora. E' vale? Bueno, a lo mejor yo... No sé si vení yo solo. ...que no me falta ninguno de mis hijos. Que traigan a los cachorros. Ok, qui andiamo passando per l'Axtra 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 Ok, qui andiamo passando per l'Axtra